Questa che vedi è la tua Italia, un paese unico. Sara non c'è più. Fatto di cielo, di sole, di mare, ma anche di storia, di cultura. Chissà quando mai sapremo la verità. E di arte. È un paese straordinario che devi ancora scoprire. La lascino libera Sara che torna immediatamente a casa. Impiega le tue vacanze per conoscere meglio l'Italia. La tua magica Italia.